Ma oggi c'è arrivato questo elenco di pubblicazioni non regolari che è quello che può essere utilizzato anche dalla radio per essere ritrosmessa. Stiamo lavorando sul piano tecnico per creare gli strumenti per rendere il più trasparente possibile l'elenco delle pubblicazioni regolari e per fare in modo che tutti i rivenditori siano a conoscenza il più possibile di questo tipo di elenco. Poi i rivenditori locali che non lo accetteranno si assumeranno la responsabilità perché le leggi dello Stato non è che riguardano solo noi, riguardano anche loro. Quindi chiunque dovesse continuare, come sta facendo adesso, a respingere dei prodotti non regolari, allora io inviterò le strutture locali nostre, ma ne parleremo anche al nostro direttivo del 1 marzo, inviterò le strutture locali nostre, intanto a fare immediatamente segnalazione all'antitrust perché lì c'è un abuso di posizione dominante che va a colpire immediatamente e poi se questo crea dei problemi economici alla rete di vendita fare anche qualche denuncia penale perché bisogna cominciare ad arrivare anche su quel terreno lì. Sulla disgregazione degli editori, tu dicevi la seconda questione, sembra essersi fermata, la FIEG rappresenta un certo numero di editori, chi è uscito dalla FIEG, in particolare dei quotidiani, li andremo a contrattare, noi siamo d'accordo con le altre organizzazioni anche su questo, che faremo una lettera per chiedere loro un incontro per vedere cosa vogliono fare, perché loro oggi, tipo il conto messaggero, è uscito dalla FIEG, ma al momento sta applicando gli accordi esistenti, ma vogliamo capire se domani darà il 10% di sconto, darà il 40% o se continuerà ad applicare gli accordi o che cos'altro. La cosa interessante è che con una serie di editori piccoli, purtroppo piccoli, si stanno aprendo dei fronti che rompono un meccanismo, qualcuno che comincia a dare l'agio sul prezzo intero di copertina, qualcuno che dice incontriamoci e parliamo per vedere come noi possiamo evidenziare le nostre pubblicazioni, dando anche all'edicolante qualche cosa in più, cioè il fronte del nulla si muove si è sostanzialmente rotto, è vero che stiamo parlando in gran parte di editori non associati alla FIEG, quindi loro sono liberi di muoversi come ritengono, perché se non sono associati, loro non hanno un accordo nazionale a cui fare riferimento, ne possono fare uno direttamente loro. È chiaro che ci sono in mezzo i distributori nazionali, ma anche il fronte, il blocco che i distributori nazionali l'hanno rappresentato fino a qualche tempo fa, quel blocco lì un po' si è inclinato, perché anche attraverso il distributore nazionale abbiamo fatto accordi o anche pubblicati sul nostro sito, l'abbiamo parlato per radio, gli giornali che hanno dato l'agio intero pur uscendo come primo numero in cut price, ci sono altri editori, questo è l'online che gli ha dato una percentuale in più sul distribuito in alcune aree test che hanno fatto, cioè non abbiamo più un fronte da quell'altra parte lì in compasso perché si è abbastanza inclinato, come si è inclinato il fronte sui distributori locali dei costi dell'informatizzazione, perché noi abbiamo distributori che vogliono un euro al giorno per un software che hanno già abbondantemente ammortizzato e pagato e che quindi vanno di fatto a portare via soldi dalle tasche dei renditori che già non ne hanno e ci sono altri distributori locali che danno il software completo, gratuito o altri ancora che lo fanno pagare rispetto a un anno fa che lo facevano pagare 350 euro l'anno, oggi lo fanno pagare 130 euro l'anno, quindi c'è un movimento in tutto questo e io credo che l'attività per quanto faticosa che abbiamo fatto in questi ultimi due o tre anni anche col governo ci ha dato una mano, noi non abbiamo più dei muri invalicabili, abbiamo una situazione abbastanza in movimento e il fatto di tanti editori che si muovono autonomamente questo ci aiuta, ho disfuggito una preoccupazione su quello che ho detto sugli abbonamenti online. Aspetta un attimo perché tu hai citato il governo quindi ci sta tutta la domanda su eventuali novità a proposito dei decreti attuativi visto che c'è stato il tavolo nazionale, volevo sapere se hai racimolato qualche informazione su questo, no voglio dire abbiamo scavallato la crisi del governo Renzi con un governo Gentiloni che comunque ha preso dentro di sé la questione dei decreti attuativi. Adesso si riprofila un'altra crisi, vediamo, cerchiamo di stare dietro a questa vicenda. Non posso parlare perché noi siamo, come abbiamo fatto nelle settimane passate, stiamo cercando di operare in modo sereno perché questi decreti escano, che escano fatti bene e che escano prima che ci siano ulteriori crisi. Mamma mia! Per quello che ne so il Dipartimento un buon pezzo di lavoro lo ha già fatto, il problema è che ha bisogno giustamente della firma politica, via libera dalla politica, la politica vuol dire il governo, il titolare dell'editoria che ha la verica sull'editoria, che vuol dire il ministro Lotti, che vuol dire il braccio destro di Renzi quindi in questo momento come tutti sanno purtroppo è impegnato in altre cose ma cercheremo di fare in modo che tra i suoi impegni e le sue altre questioni ci sia anche quello di far uscire questi decreti perché è importante cioè servono sia a noi, servono anche agli editori per quello che riguarda il finanziamento delle testate quindi c'è dentro della polpa sostanziosa e vediamo... Passami la battuta, saranno gli edicolanti a riunire di nuovo il PD. Era detto anche essere quello, dobbiamo essere reti, mettiamo il cartello a Roma, Lotti dai siamo tutti con te almeno fino a quando ci fai decreto, dopo ognuno è libero di dire quello che vuole ma fino a che non ci fai decreto noi siamo tutti vicini a Lotti e lo sosteniamo. Vabbè allora ti rilascio la parola per rispondere alle osservazioni che stanno girando sulla chat a proposito di una tua affermazione sugli abbonamenti online, vai. Sì, io ne ho vista solo una, l'ho vista quella perché non riesco a stare senza... Sì sì, no ma è quella, quella diciamo che spicca di più, vai. Vorrei tranquillizzare, tranquillizzare perché quando io parlo degli abbonamenti online non sto dicendo che noi ci mettiamo a fare gli abbonamenti online, sto dicendo che anche quelli che fino a oggi e anche per il futuro andranno via per conto loro e che tendenzialmente gli editori cercano di tenere lontano dall'elicola, noi quelli lì li vorremmo far veicolare da noi. Perché uno deve andare in banca per fare un bonifico e fare il suo abbonamento? Io sto parlando di quelli che oggi ci sono, non che noi ci dobbiamo mettere a promuovere gli abbonamenti online. E già questo è un chiarimento. E dire, vediamo, me lo fate voi, anzi a fare il bonifico? Allora carichiamo noi con un metodo che proporremo, che vedremo, ma lo carichiamo noi e portiamo in edicola quel tipo di abbonamento che sfugge, perché noi non è che possiamo dire a uno che fa l'abbonamento online tu non lo devi più fare, sì, ci proveremo, direi ma alla FIEG che non li devono fare, ci proveremo, non è un numero così grande come si pensa, anzi sono numeri abbastanza relativi, però quei numeri lì noi li vorremmo portare dentro in più, non in sostituzione di quello che abbiamo. Poi se è una materia delicata che vogliamo fermarsi un attimo di più ci riflettiamo, ma l'idea che noi abbiamo è di portare tutto in edicola, quindi sia questo penso qua, ma soprattutto l'attività, quella che ha fatto il comitato sugli abbonamenti, le cartoline, noi su quello abbiamo dei progetti, delle proposte e le metteremo sul tavolo della FIEG, le metteremo lì, perché per noi quello è uno degli elementi importanti, il lavoro che hanno fatto i ragazzi con la raccolta delle cartoline che stanno continuando a fare, è un lavoro importantissimo che vorremmo non sprecare, noi non sprecheremo, perché da lì vogliamo portare a casa dei risultati e quindi è uno dei progetti, adesso non mi metto a discutere di ogni cosa, di Sinaglio, 23 punti di piattaforma e dentro gli abbonamenti sono uno dei punti importanti, quindi non è che ce lo siamo dimenticati in una maniera più assoluta, fa parte del ragionamento su come, perché mi riguarda, faccio un passaggio a uno scambio di parole che abbiamo avuto noi con la FIEG, perché loro dicono che a loro interessa, nel difendere l'articolo 8 tra l'altro, interessa un'edicola pulita da porcherie in vendibili, con gli spazi per le pubblicazioni vendibili, che sono ovviamente le loro dal loro punto di vista e vorrebbero un'edicola professionale, un'edicolante che quando arriva un cliente che gli chiede una cosa sa che cosa il cliente sta chiedendo, mentre oggi a volte il cliente arriva e chiede una cosa, l'edicolante cerca il vocabolario, è un'esagerazione, ma in qualche città grande abbiamo anche qualcuno che parla male di italiano e che non riesce a capire e che aspetta che sia cliente ad andarsi a prendere la rivista o l'attestata che gli serve, allora la FIEG ci pone questo come una propria riflessione, la cosa che noi vi abbiamo detto è che siamo d'accordo, anche a noi piacerebbe, però tu Federazione Editore se vuoi, l'edicolante professionale, se vuoi che ci sia spazio per le testate vendibile e che sia pulito dalle cose vendibili, tu devi mettere in condizione quell'edicola di essere remunerativa e di vivere, perché se tu non mi metti in condizione di vivere è chiaro che io in edicola vado a cercare tutti i mezzi e gli strumenti possibili e immaginabili perché adesso ho un po' di reddito e continuare ad andare avanti, quindi io sono d'accordo con te, ma la condizione basilare è che tu mi faccia, mi dia le condizioni economiche perché la mia attività sia remunerativa e quindi vuol dire che tu mi devi aiutare a trovare i servizi necessari, mi devi portare una pubblicazione vendibile, mi devi dare un agio che sia adeguato all'esistenza del mio punto vendita, significa che mi metti a sedere e parliamo anche di soldi e di qualità anche del prodotto che tu mi mandi in edicola. Io pensavo che mi mandasse a quel paese, hanno detto no, no, è chiaro che ci rendiamo conto che in edicola se la vogliamo professionale deve essere anche in grado di… poi loro secondo me pensano di sotterire la mancanza di reddito da giornale di vista con delle cose, dei progetti che loro hanno in mente di veicolare attraverso servizi, beni non ho ancora ben capito, di veicolarli attraverso le edicole. Non ho nulla in contrario, se questo ci porta veramente dei soldi in edicola, parliamone, noi non è che abbiamo detto assolutamente no, noi abbiamo detto andiamo a verificare tutto ciò che porta soldi in edicola e ne parliamo, non abbiamo mica nessuna difficoltà, però il punto centrale deve essere che l'edicola deve essere in grado di vivere, questo è, noi da qui partiamo e qui dobbiamo arrivare alla fine della trastativa. Per quello che c'è quel fisico di ottimismo, perché in questi discorsi ci stanno dentro tante cose, ci stanno dentro soprattutto le parti economiche e le parti economiche sono fatte di abbonamenti, di agio, sono fatte di tutte le cose, di servizi, di beni, di condizioni che le edicola debbano poter avere perché uno stop alla morire di edicola e bisogna metterlo, non è che possiamo andare avanti così. Ecco perché è importante questo discorso sul censimento, perché avere un quadro chiaro della situazione e soprattutto sapere in quali settori e in quali aree intervenire, qui c'è un limite sottile, la radio lo porta avanti da tempo questo discorso, ma io colgo l'occasione per risollevarlo nel confronto con te e Giuseppe anche con gli ascoltatori. Una volta avuto il quadro chiaro della situazione, le aree e soprattutto i settori, si può fare un ragionamento a quel punto, si può aprire un solco di confronto anche con le istituzioni e con la parte politica e cioè arrivare a quel bene informazione come bene pubblico che deve coinvolgere le comunità territoriali, aprendo in questo senso l'edicola a un rapporto più diretto con il territorio. La radio crede molto a questo ragionamento, che chiaramente non è paragonabile al tavolo di confronto con gli editori, che ha soprattutto una sostanza economica, poi alcune modalità di rapporto, ma che in realtà lascia intravedere nuove prospettive. Perché dal momento che si ha un quadro chiaro della situazione, di questo mestiere che potrebbe diventare una professione, mettiamola così, con una maggiore sensibilità nei territori, allora è anche più facile, tra virgolette, andare a trattare a un confronto più preciso con le istituzioni e con la parte politica, cioè a dire le edicole sono queste, le edicole sono importanti per il bene pubblico, informazione, bisogna tutelare e consolidare le edicole che hanno passato questo lungo tunnel della crisi e che quindi guardano con spirito nuovo al futuro, anche perché, e qui il discorso sarebbe lungo, ma insomma faccio solo il titolo, il ricambio generazionale da questo punto di vista va aiutato e va attestato sul punto più alto possibile, visto che c'è una nuova generazione molto preparata da un punto di vista culturale